Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale Io sono Diego e oggi sono qui per portarvi un nuovo video in questo caso abbastanza particolare lo utilizzerò come speciale dei 35.000 iscritti ovvero un video nel quale vi spiegherò o più che altro vi mostrerò la mia scrivania mia scrivania intendo desktop del computer e tutti i programmi che la diciamo che la formano, che la creano oggi vi mostrerò solamente la mia scrivania e le cose che la compongono se volete un vero e proprio computer tour o comunque le varie informazioni o comunque whats on my computer vi porterò un video dedicato nel quale vi mostrerò pro volte quante le particolarità che ho nel mio computer quindi in generale un giro tra gli hard disk un giro tra le cartelle e non solo sul desktop invece oggi vi mostrerò solamente la mia interfaccia preferita ovvero la mia scrivania che direi, io spero che questo video vi piaccia mi raccomando c'è subito adesso un bel mi piace inoltre ragazzi vi invito ad entrare a questo punto nel mio nuovo sito web che come vedete ho creato da pochissimi giorni per il fatto che, perché come saprete adesso non posso più portare video su Zodiacazzetta Tutorial quindi ho deciso di creare questo sito web che ho creato tramite Wix lo so, ma è il meglio che potevo fare gratuitamente e senza ammazzarmi di lavoro anche se il lavoro c'è stato ringrazio subito Fenix che mi ha aiutato a completarlo ma comunque come vedete è venuto abbastanza bene ne sono abbastanza fiero lo avete già visto in molti quindi sono molto contento e qua potrete trovare tutti quanti i programmi, i giochi e anche dei trucchetti per determinati giochi in modo gratuito quindi vi invito a farci un salto dopo aver detto ciò comunque continuiamo con il video come vedete iniziamo subito dalle prime applicazioni se non le più importanti a parte i miei giochi ma questi qua sono dei giochi che poi vi mostrerò andiamo subito dalla parte sinistra dello schermo nel quale troveremo vabbè nella barra in basso delle applicazioni le applicazioni che io uso più spesso a sinistra abbiamo Thunderbird Thunderbird ragazzi è un'applicazione che vi permetterà praticamente di accedere alla vostra posta elettronica non ve la apro per motivi di avrete capito la motivazione per motivi di privacy perché sono tutte avanti le mie mail devo dire che secondo me dopo Outlook o insieme ad Outlook è uno dei migliori e vi consiglio di provarlo perché non c'è bisogno di avere una determinata email ma può essere anche un'email non per forza fatta con in questo caso penso Firefox perché è del Mozilla Thunderbird ma io ho Gmail quindi non ha problemi inoltre si possono anche controllare più o meno insieme e secondo me è uno dei migliori sistemi per selezionarle e gestirle correttamente in seconda a destra diciamo del nostro Thunderbird abbiamo Audacity che come capirete o come saprete più o meno perché è molto famoso è un programmino che vi permette praticamente di registrare delle canzoni o comunque dei video o semplicemente registrare l'audio come in questo caso quello che sto utilizzando attualmente del microfono è veramente molto buono è gratuito vi permette un editing dell'audio a livello molto semplice ma con comunque delle modifiche importanti che molti programmi devo dire non hanno in terzo posto ovvero la terza posizione dopo Audacity abbiamo questo altro programmino che invece non conoscerete e non conoscevo neanche io e questo perché perché io ho una tassità della Razer e hanno aggiornato praticamente il software dei driver il software per la gestione come vedrete anzi come vedete attualmente è un software molto più completo ci sarà la personalizzazione della tastiera in qualunque tipo logia di metodo tra comunque modifica dei singoli pulsanti quindi poter dire che questo qua è un pulsante quando vi dai un altro modifica del colore quindi lightning che sarebbe quella più strabiliante diciamo ma comunque questo lo saprete se avete una tastiera RGB e soprattutto se avete una tastiera Razer che come sapete è una delle migliori sul mercato secondo me le migliori sul mercato comunque è veramente un programmino molto completo e per chi ha un prodotto Razer che sia mouse tastiera o tappetino che sono pure quelli elettronici tra un po' anzi ci stanno vi consiglio di averlo perché è veramente molto molto completo poi invece abbiamo quest'altra applicazione che è molto simile per colore icona a Synapse penso si chiami quella della Razer che sarebbe invece quest'altra ovvero Proto VPN è un servizio di VPN quindi di di proxy per proxarsi per nascondere il vostro IP a pagamento che comunque io ho tramite un mio amico e lo trovo veramente molto interessante fa un'ottima protezione è a pagamento ma ne vale veramente la pena io ad esempio lo utilizzo molto spesso qua invece a destra abbiamo ancora Wondershare Video Converter che è un programma che come capirete dal nome vi permette di convertire qualunque tipo di qualunque tipo di filmato o audio in altre tipologie quindi una conversione inoltre è molto completo perché permette anche tanti altri servizi però ci sta quella versione free ci sta anche la versione a pagamento che è veramente fondamentale perché con quella free molte cose non si possono fare quindi lo sconsiglio un pochino diciamo se dovete comprarlo ve lo consiglio perché la versione a pagamento è veramente molto completa molto più di altri programmi ma come versione free vi consiglio un programma che adesso andremo a vedere comunque qua abbiamo la suite office quindi neanche la faccio vedere utilizzo solamente Excel e Word qua abbiamo Sony Vegas Pro 15 abbiamo Photoshop che comunque ragazzi questi sono programmi che avete già visto sul mio canale e neanche vi mostro qua invece abbiamo Premiere Pro e After Effects anche questa suite dell'Adobe non ve li mostro assolutamente e sapete le varie motivazioni per quali non ve li mostro e anche soprattutto perché come ho già detto sono programmi molto molto famosi diciamo che questo video è fatto più che altro per farvi conoscere i programmi che utilizzo e che non sono conosciuti naturalmente molti li conoscerete ma cerco comunque di mostrarvi quelli più interessanti a destra abbiamo Cinema 4D ottimo programma per poter creare testi, video, intro, outro comunque cortometraggi fatti in realtà in realtà aumentata quindi in 3D o talvolta anche in 2D ma non viene molto utilizzata questa come posso dire questa possibilità perché è un programma che permette la modifica 3D delle cose quindi sarebbe abbastanza inutile anzi sarebbe un po' sprecato per lavorarci in 2D comunque in poche parole non ha molto senso utilizzarlo per una modellazione 2D ecco questo qua è basato soprattutto per quella tridimensionale è molto semplice anzi molto semplice come interfaccia perché poi comunque è un programma molto complesso pieno di funzionalità va studiato e non è facile utilizzarlo però comunque se ne avete la possibilità vi consiglio di provarlo perché è veramente molto interessante comunque anche proprio il mondo della modellazione 3D passando invece a destra di questo programma abbiamo Handbrake che è un programma che come vi ho detto prima anzi come vi ho accennato sarebbe il programma gratuito che permette la conversione quindi il sostituto gratuito ottimo l'alternativa migliore di Wondershare Video Converter è un programma che a tutti gli effetti vi permette quindi di caricarci qualunque tipo di file e di andarlo a come posso dire a convertire in qualunque altro tipo di file e in tantissimi formati e comunque metodologie diverse quindi è veramente molto molto interessante soprattutto per il fatto che è gratuito senza pubblicità senza limiti senza banner aggiuntivi senza problemi quindi veramente un ottimo ottimo programma poi anche molto semplice da utilizzare poi comunque dopo di questo abbiamo Spotify che di sicuro conoscerete tutti quanti ho la versione gratuita anzi ho la versione premium giusto mi ero dimenticato perché tramite un mio amico sono riuscito a fare una cosa family ovvero una specie di acquisto familiare è un po' un casino comunque funziona è il mio account e beh Spotify lo conosce tutti utilizza la musica soprattutto gli impliciti ovvero non so se comunque sono quelli però quelle canzoni che non sono presenti online ma solamente su Spotify perché non sono ancora state rilasciate online quindi veramente molto molto comodo poi abbiamo Steam sulla destra che per chi non lo conoscesse a parte usciamo da questi programmi che comunque rimangono aperte in sottofondo ok Steam che per chi non lo conoscesse è praticamente un servizio un programma che vi permette di scaricare dei giochi di comprarli è un vero e proprio store che vi permette di mettermi in comunicazione con altri videogiocatori per comprare i videogiochi per pc più famosi in generale tutti quelli che sono usciti vi permetterà di giocare con altre persone che usufruiscono di questa applicazione ovvero Steam io gioco a Counter Strike che probabilmente conoscerete e può capitare che magari giochiamo insieme qualche volta automaticamente mi si è rieperto anche Sign Synapse perché si vede che ho aperto Steam e visto che hanno qualche specie di impiccio potrebbe essere che avendo la game mode si è aperto non lo so passando adesso abbiamo Diz Loader che come conoscerete perché ci ho portato un video è un programma che vi permetterà anche con l'ultima versione la 3.0 naturalmente tutti i link vi lascerò qua sotto in descrizione per i programmi gratuiti vi permetterà con la versione più aggiornata che trovate sul sito questa quella vecchia di poter scaricare canzoni da Diz Loader che sarebbe da su Deezer scusatemi che sarebbe un servizio tipo Spotify quindi musica con tutti quanti i metadati tutte quante le copertine il nome del cantante dell'album è in ottima qualità quindi vi consiglio di provarla sinceramente poi abbiamo invece 4K Video Downloader anche questa come dice dal nome è un'applicazione che permette il download di qualcosa infatti incollando il link di un video o di una canzone di Youtube avrete la possibilità di andare a scaricarla in ottima qualità è gratuito non vi da limiti ed è veramente molto ma molto comodo l'utilizzo veramente da tantissimi anni ed è sempre molto molto comodo quando ad esempio devo scaricare un mio video che adesso non è più reperibile andando poi ancora nella parte centrale della mia barra delle applicazioni abbiamo CyberGhost che come Proto VPN è una VPN anche questa c'è la versione gratuita e a pagamento e niente fa il suo lavoro ma preferisco Proto VPN sinceramente quindi vi consiglio di provarle entrambe per poi scegliere secondo voi qual è la migliore non capisco perché non mi esce da Synapse Exit poi abbiamo TS TeamSpeak ovvero un servizio gratuito che vi permette di entrare in dei gruppi dei canali con cui potete parlare con delle persone si utilizza di solito per giocare ma anche semplicemente per comunicazioni e riunioni di lavoro poi abbiamo Internet Explorer il mio vecchio browser che non utilizzo più quindi posso rimuovere e ho però il browser che sto utilizzando attualmente e sapete benissimo la motivazione adesso Razer si sta prendendo in continuazione e non so perché ti pareva sempre quando faccio i video succedono queste cose comunque devo poi confermare la motivazione se voi comunque vedete qua in basso ci sono altre due applicazioni che non vi ho mostrato e che forse non conoscerete queste due questa qua la mostrerò breve in un video invece questa qua è un'applicazione che utilizzo per il fatto che io mi capita spesso adesso non tanto perché tra scuola lavoro amici eccetera eccetera sto veramente pochissimo al computer e lo vedete dai video che stanno uscendo però comunque quando ci sto capita che ci sto la sera e il contrasto mi fa male agli occhi soprattutto con il fatto che adesso ci sta tutta questa cosa della luce blu e così via quindi questa applicazione gratuita F-Lux in base al al tempo in base al scusate all'ora vi va ad aumentare o ad abbassare la luminosità dello schermo ma più che altro vi va a mettere un pannello un pannello di colore giallognolo che va a fermare i filtri blu naturalmente non è una come posso dire non è che se avete questo non dovete prendere le giuste accortezze ma comunque meglio avere una minima protezione che non avercela poi andiamo Grandift Auto che comunque conoscete GTA 5 comprato Counter Strike comprato Warfare Scene 2 e poi Dr. Phone che sarebbero comunque Dr. Phone ve l'ho mostrato e questo è un altro gioco che probabilmente conoscerete che dire questo qua è il mio nuovo sfondo spero che comunque vi piaccia ci ho messo un pochino a farlo e poi vi spiegherò perché l'ho fatto in questo modo sarà veramente molto interessante o almeno secondo me sarà così comunque come ultima cosa avremo il mio cestino le mie 6 cartelle ormai leggendarie vabbè anche il nome del cestino non scherza e niente ragazzi comunque io spero che questo video vi sia piaciuto è stato un po' come posso dire non troppo scherzoso ma cercherò nei prossimi video di portare qualcosa di molto interessante spero di avervi fatto conoscere delle applicazioni che sinceramente non conoscevate se volete anche un PC Tour o un What's on my PC What's on my phone o comunque quello che è ve lo porterò veramente molto volentieri per adesso vi ho portato questo video perché era da un po' che non sapevo cosa portarvi mi raccomando entrate nel mio sito lì potete trovare tutti quanti i tutorial o comunque li sto aggiungendo adesso in giochi ho messo solamente questi due ma già in programmi tramite l'uito di questo ragazzo ho aggiunto vari programmi molto interessanti se ci sta qualche bug potrete contattarmi e scrivermi direttamente dal sito qua sono tutti quanti i miei referi al che dire ragazzi da Diego è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao belli when life would move slower we would never grow up all we knew that love was for when we're older